Carissimi telespettatori, cari amici di Rete55, buona serata. Dovremmo dire per i bambini buone vacanze, per i bambini anche per gli altri studenti e in bocca al lupo per chi ha gli esami in questi giorni, ci sono gli esami soprattutto della maturità che sono quelli che in un certo senso sono la prima grande occasione per un giovane di dimostrare la sua preparazione culturale in vista degli altri traguardi della vita e quindi qualche volta è anche giusto ricordare per chi studia e per chi ha studiato questo momento, sotto certi aspetti è anche indimenticabile e sotto altri aspetti molto preoccupante che ci sia solo l'indimenticabilità di un momento gioioso anche se faticoso. E auguri anche per chi comincia il tempo estivo nel summer life, come si chiama quest'anno, attenzione che non chiamano più oratorio estivo perché ci sono delle varianti non di poco a causa dei cosiddetti momenti o crisi della epidemia che ha comportato tante modifiche anche nei protocolli per i centri estivi. Ora abbiamo ripreso dai nostri studi di Rete 55 le nostre trasmissioni. Questa sera a metà di giugno vorremmo prendere un episodio che è accaduto dieci anni fa, dieci anni fa come oggi, accadeva il funerale di una persona molto conosciuta, almeno la nostra diocese, dieci anni fa il martirio di Monsignor Luigi Padovese, vescovo e testimone. Ora, cosa è successo? Qualche volta vale la pena ricordare eventi anche come in questo caso molto dolorosi perché alla base che cosa c'è di un evento? Il sacrificio di una persona, il dono di una persona, il servizio. In questo caso di un sacerdote religioso legato alla famiglia francescana che aveva dato prova di grandi capacità sul piano culturale, anche di insegnante stimato nelle facoltà universitarie romane, e un sacerdote tipicamente francescano, sorridente, pronto al dialogo e al confronto con tutti. Proprio oggi, il 14 giugno del 2010, avvenivano i suoi funerali nel Duomo di Milano, dove l'allora cardinale Tettamanzi ricordò che il seme caduto in terra per portare molto frutto muore. E questo frutto è un uomo che ha lasciato una voce indelebile, in un dialogo che diventa un ponte tra l'Occidente e l'Oriente, infatti resta colpito a morte dal suo autista, tra l'altro un uomo di fiducia apparentemente, che lui era vicario apostolico per la Turchia. Un'improvvisa e tragica morte, affermava allora Benedetto XVI, che ci ha lasciato tutti sgomenti e addolorati, ma un dono vivo e permanente per il popolo di Dio, in particolare per i cristiani della Turchia, che sono proprio pochi, perché la Turchia è un paese sostanzialmente di religione musulmana, e i cristiani che ci sono normalmente aderiscono alla confessione ortodossa, non sono cattolici, oppure sono cattolici ma ha diritto greco-bizzantino, però per dire che sono comunque cristiani. E il delegato pontificio, l'amministratore, il vescovo incaricato è lì a servizio di tutti. Tra tutti i paesi di antica tradizione cristiana, scriveva Monsignor Padovese, nessuno ha mai avuto tanti martiri come la Turchia. Questo lo scriveva lui cinque anni prima della sua tragica morte. La terra che noi calpestiamo è stata lavata col sangue di tanti martiri, che hanno scelto di morire per Cristo. È un dono essere cristiani in Turchia. È una grazia appartenere a questa chiesa, che è l'erede della prima chiesa cristiana, la chiesa di Anatolia è una chiesa viva. L'amore è più forte della morte. Pochi anni prima, nel 2006, io ero a Roma, me lo ricordo bene, fu assassinato anche lì in circostanze tragiche, proprio da, potremmo dire, intanto che pregava, era lì proprio assorto in preghiera, fu colpito un altro sacerdote, proprio romano, don Andrea Santoro, nella chiesa di Trasbon, mentre proprio stava pregando. Chi ha pensato che uccidendo un sacerdote avrebbe cancellato la presenza cristiana da questa terra, non sa che i morti sono la forza del cristianesimo. L'amore è più forte della morte. Preghiamo per questo giovane assassino. La forza del perdono è la nostra preghiera. Lo potranno aiutare a capire questo grande valore del perdono. Queste sono le parole di Monsignor Padovese quando accadde la uccisione di don Andrea. Ora, cosa dire di questo sacerdote e vescovo proprio incaricato per la Turchia? È evidente. Sono tre le parole che vorremmo raccogliere a dieci anni da questo martirio. Certamente, il dialogo, prima di essere un incontro e un confronto di idee, diceva così, e poi l'ha realizzato. È un confronto tra gli uomini che hanno, oltre al cuore, anche la mente. La mente di chi vuole cercare il bene. La Turchia è un paese sostanzialmente vicino a, potremmo dire, una porta verso l'Europa. E il buon Monsignor Padovese aveva allacciato degli ottimi rapporti, proprio con la parte musulmana, con coloro che sono i rappresentanti della, più che una chiesa, della religione, quindi con tutte le varie autorità locali. Non solo, ma in questa situazione, vedeva che il bene deve essere qualcosa che si costruisce pezzo a pezzo, un poco alla volta. Come diceva lui nel testamento di Padovese, che dall'odio deve nascere il perdono. C'è un ricordo anche del regato ai vari eventi storici, tra le crociate alle varie guerre, qui ci sono stati degli scontri. Ma il vero valore è quello di chi, giustamente, cerca quel bene che è capace di superare l'odio e la vendetta con il perdono, il senso di pace, di giustizia, che va cercato e rinvigorito, soprattutto cercando nella profondità della fede. Ecco l'altro grande valore, insieme al dialogo, la fede. Fede nell'unico Dio, che affratella anche i nostri fratelli musulmani, come i nostri fratelli maggiori dell'origine ebraica. Cioè fa sentire che nel dialogo interreligioso c'è questa limpidezza dell'animo di un pastore, in questo caso Don Luigi, Monsignor Padovese, che ha offerto la sua vita per restare fedele alla missione della Chiesa, cioè annunciare la fede in Gesù Cristo, come il prototipo dell'uomo realizzato nell'amore. E su questa fede pura, limpida, ecco anche la capacità di mostrare, terzo grande valore, un'apertura amichevole e generosa. Anche verso questo, quanti non condividevano la sua fede, quindi le sue virtù umane, la sua fede, la sua passione per la Chiesa e anche il fatto molto prezioso dell'attenzione a quel popolo di Dio che anche in luoghi come la Turchia o altrove ha bisogno di risorse, ha bisogno di sperare, ha bisogno di conforto. Stare accanto alle persone, soprattutto quelle che soffrono, quelle che vivono momenti difficili, l'essere pastore che si fa incontrare dal suo grece, essere una persona pur con tanta cultura generale, ma capace di una semplicità, una limpidezza, un dialogo chiaro e che si sa far ascoltare da tutti. Capite? E forse è stato scelto anche per questo, per essere purtroppo vittima di una vera e propria, potremmo dire, situazione di tradimento. Perché il suo autista durante un momento, potremmo chiamarlo di pausa, all'improvviso l'ha colpito. E poi sappiamo che si è anche pentito di questo. E in un certo senso qualcuno dice sono forse anche le preghiere e l'invocazione di perdono che sicuramente Monsignor Padovese può avere elevato, ma dall'altra parte è il senso di una Chiesa in una terra martoriata. Anche nei secoli, sono tanti i casi di martirio anche nella zona della Turchia. E questa terra martoriata si trasforma in un luogo di annuncio di perdono. Ecco il collegamento con una clarissa che scriveva lui nel suo testamento spirituale di cinque secoli fa. Le tragiche vicende politiche travolsero la famiglia di questa clarissa, la famiglia Camilla Battista, fino ad arrivare allo sterminio dei suoi cari e all'esilio per lei, pur nella drammaticità, non ebbero la meglio su questa donna, ricorda Padovese nel suo testamento spirituale, che ebbe la forza interiore di pregare per i suoi nemici, fino a trasformare l'odio di cui era stata fatta oggetto in occasione di perdono e di amore eroico. E per il nostro Monsignor Padovese queste virtù oggi, a distanza di 500 anni, era il periodo tremendo, quando ci furono le crociate, quando ci furono i tanti rivolgimenti, i tentativi di conquista, allora si chiamava l'impero ottomano, che cercava un'espansione, soprattutto nell'Europa cristiana, che vuol dire che anche per i cristiani delle nostre comunità ne fanno un modello di chiesa. Per questo, anche se siamo vessati dalla persecuzione della violenza, e questo esalta questa donna, questa religiosa beata Camilla Battista, può diventare un esempio di riconciliazione, un'occasione per ritrovare speranza attingendo la sorgente della passione di Cristo. Parole che adesso commuovono, commuovono perché fanno comprendere che c'è un cammino, un cammino di un uomo che ha dato un esempio, con un amore profondo verso quello che possiamo chiamare il suo impegno. E anche in questo, il suo lavoro scientifico, come ha ricordato anche Monsignor Franceschini, che era l'altro delegato per la Turchia, e l'arcivesco di Smirne, l'arcivesco di Smirne, ricordava proprio questa capacità di unire la scienza con la spiritualità, di unire il valore della generosità e della disponibilità verso gli altri, anche verso coloro che lo perseguitavano. È un esempio, oggi potremmo dire un seme. La Chiesa ha bisogno di testimoni, si spera che non siano testimoni martirizzati, ma comunque di testimoni oggi credibili, in una situazione la quale, come vediamo, il dialogo è la miglior risposta di fronte alle divisioni, a volte anche agli odi, e se vogliamo anche a quelle inutili contese che possono scaturire da estremismi religiosi, trovare sempre un punto d'appoggio, la fede profonda, limpida, il monoteismo, la fede dell'unico Dio, il valore di quel dialogo per la pace fondata sulla giustizia, sul rispetto dei tutti, e il ponte dell'amicizia, quelle virtù umane, soprattutto quella della disponibilità e diremmo della volontà di costruire dei rapporti veri e autentici. Grazie di questo ascolto, buona serata a tutti, pace e bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.